Stai ancora registrando, lei è in scena Ciao a tutti, grazie per questa vista E qual è stato il suo primo tatuaggio? Il mio primo? Quello di tutta la schiena che ho incisa la A di una madre E il secondo? Il secondo è stato Akuna Matata E il terzo? Il terzo è stato il trovare se c'è la culo E il quarto? Il quarto è stato Lip Free Facciamo davvero meglio Minchia che ho visto non era, vai qui giù Cazzo che figa Ma è stato così bello Ecco qua c'è Andro Arpellino, guardate che bello Eccolo qua Guardate il sex symbol Una domanda, dai, dai, una domanda Non rompere i coglioni, una Allora, perché ti sei iscritto in questa scuola? Opa, e noi facciamo subito al volo Grazie a tutti.